Adesso tutti dicono che i quattro anni, sei mesi e un giorno dai nuovi parlamentari percepirete il vitalizio. Sono cose diverse rispetto a quello che succedeva in passato. Lo ribadisco, noi versiamo i contributi, in passato non versavano nulla. Voi, è una pensione, diciamo. Sono cose diverse, perché molto spesso in televisione, anche gli stessi dei 5 Stelle, ah, il vitalizio, il vitalizio, il vitalizio, sono cose diverse. Io poi, il consiglio che do ai 5 Stelle, non volete percepire il vitalizio, vi dimettete tutti in massa il giorno prima e di conseguenza non percepirete nulla, nulla. Comunque, vabbè, più di che vitalizio è una pensione in questo caso. Quanto è più o meno? Lo sa? Fatti i conti? 400 euro? No, perché io spero di non arrivarci, spero di andare al voto prima.